Il tema dell'accessibilità è un grande tema sociale, un tema umano per tutti quanti noi. Il Colosseo negli ultimi anni ha fatto passi da gigante e dobbiamo lavorare perché continua ad elevare la qualità dei servizi che vengono offerti ai turisti. Adesso con questo ascensore noi potremo andare verso il terzo ordine, molto importante, quindi un altro pezzo di Colosseo che viene dato alla fruibilità di coloro i quali sono appassionati di questo meraviglioso e straordinario luogo. Questo ascensore consente di collegare il primo ordine con la galleria intermedia e quindi anche con il terzo livello del monumento. Questo è importante anche perché la galleria intermedia sarà fruibile, ha avuto un restauro piuttosto lungo e quindi consentirà anche di leggere la storia millenaria del monumento attraverso un'illuminazione artistica. Questo è un dato in più che consentirà al pubblico di conoscere sempre meglio il monumento, quindi l'Anfiteatro Flavio e poi il Colosseo. Grazie.